Fieri era il più giovane e fiero dei Vallonara. Sognava l'amore. Rinaldo D'Angarano era il suo rivale. Amava la guerra e il pugnale. Il cortometraggio, novità della partita a scacchi a personaggi viventi 2022, narra l'antefatto della celebre leggenda che risale al 1454 e che racconta di un duello combattuto attraverso una partita al nobile gioco degli scacchi per conquistare la mano della bella Leonora. Leonora intanto ascoltava il suo cuore e confidava la madre perduta e tanto amata, i suoi turbamenti e le sue speranze. Un'epopea d'amore senza tempo che dopo quattro anni di stop con l'annullamento dell'edizione 2020 a causa del covid torna ora ad incantare il pubblico in una delle piazze più belle d'Italia. Amarostica affermano i preparativi per l'evento che andrà in scena il 9, 10 e 11 settembre. Siamo pronti, carichi come non mai, quattro anni dove abbiamo continuato a lavorare incessantemente per migliorare e internazionalizzare lo spettacolo. Che partita a scacchi sarà quella di quest'anno? Beh, la partita a scacchi della rinascita a tutti gli effetti e la partita a scacchi che ci porterà verso il centenario del nostro meraviglioso spettacolo. La regia è affidata ancora una volta a Maurizio Panici, sempre attento a rispettare la tradizione. Sempre nel rispetto della tradizione ma proiettati con una visione di futuro e utilizzando anche i mezzi che abbiamo a disposizione per poterlo fare. La partita a scacchi a personaggi viventi è una rappresentazione capace di muovere un'intera comunità. Saranno 650 i figuranti in scena, oltre ai tecnici e ai volontari che lavorano dietro le quinte. Il sindaco di Amarostica, Matteo Mozzo, abituato a vivere la partita sul campo tra gli armati, sarà costretto dagli impegni istituzionali a fermarsi in tribuna. È difficile da spiegare per chi non è cittadino marosticense cosa vuol dire la partita a scacchi. Non è un evento, è una cosa quasi di proprietà di ogni Marostegano, diciamolo. L'emozione è tanta e crea veramente un movimento di popoli in cui tutta la città collabora. Sono sicuro che sarà una edizione da record e ne gioverà tutto il territorio, non soltanto la nostra città.